Un post fresco fresco di Beppe Grillo, i grillini non sono più marziani, lo leggo insieme a voi, oggi alle 21.55 la sonda Perseverance atterrerà su Marte, alla stessa ora la Perseveranza con la P maiuscola atterrerà su un altro pianeta, la Terra, più precisamente alla Camera dei Deputati. I grillini non sono più marziani, i grillini non sono più marziani. Questo è il messaggio di Grillo che arriva nelle stesse ore in cui c'è molto fermento dentro il movimento, non solo per le espulsioni dei 15 parlamentari, ma anche perché pare che si stia per formare un gruppo al Senato con le persone parlamentari che ieri non hanno votato la fiducia a Mario Draghi. Lo avrebbe detto il senatore Crucioli che è stato ieri anche nostro ospite, ha detto sto lavorando a questo progetto, vedremo in quanti ci staranno perché poco fa Morra ha ribadito di essere 5 stelle nel sangue, Barbara Lezzi addirittura vorrebbe candidarsi al direttorio e in tutto questo dalla Università di Firenze, il rettore dell'Università di Firenze ha fatto sapere di aver sentito l'ormai ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che dovrebbe tornare a insegnare un diritto privato, un diritto civile dal primo di marzo nell'Ateneo Fiorentino. E così abbiamo detto tutto quello che si muove intorno al Movimento 5 Stelle, io non so se i marziani non arrivano più com'era che non ho capito bene. Allora, i grillini non sono più marziani, i grillini non sono più marziani, è il titolo anche del post. I grillini non sono più marziani perché arriva la fiducia a Draghi. Arriva la perseveranza, quella che lui chiama la perseveranza. Arriva la perseveranza, va bene, non sono più marziani. Io in realtà una domanda sui marziani ce l'avrei e dico... Fatima!